Pubblicato il calendario del primo quadrimestre dell'Università senza età per il sesto anno nei locali della parrocchia di San Pietro, i corsisti seguiranno i vari appuntamenti, effettuando l'iscrizione direttamente il primo giorno di lezione, cioè l'11 novembre, giorno in cui verrà presentato dal docente di Catechetica della Facoltà Teologica di Sicilia di Palermo, Don Giuseppe Alcamo, con l'introduzione del prefetto degli studi Don Giuseppe Danna, il volume di Padre Calogero dell'ospedale Alongi, dal titolo Modelli di Catechesi e itinerari di vita cristiana nella diocesi di Caltanissetta. Siamo al sesto anno, siamo grati al Signore, siamo ben felici di accogliere ancora una volta le centinaia di cittadini che da tutta Caltanissetta si riversano più volte a settimana presso la struttura parrocchiale di San Pietro, nella fattispecie l'auditorium Monsignor Naro e i locali annessi, le aule di catechismo e la sala di teatro dedicata a Monsignor Garcia. Ancora una volta riprendiamo col corso la Sicilia immagine e rappresentazione, conoscendo alcune figure che hanno dato nome ad alcune vie di Caltanissetta, riprendiamo con il corso corpo e mente seduti a tavola, educazione alla salute e riprendiamo con due corsi d'inglese. Se ahimè quest'anno non possiamo avviare un primo anno, continueranno gli anni già predisposti nel periodo precedente. L'iniziativa ha continuato negli anni ad avere una risposta positiva e questo ha spinto il parroco di San Pietro, grazie anche al grande lavoro di coordinamento svolto da Fiorella Falci, Cettina Ginevra e Maria Lupo, a proseguire questo cammino iniziando un nuovo anno accademico. Il progetto socio-caritativo culturale è riuscito ad accogliere infatti sempre più persone mosse dalla voglia di conoscere, informarsi e confrontarsi sui vari temi trattati. Esperienza, attività e relazioni che sono state anche raccolte e documentate all'interno di due libri. Un'esperienza lunga, seppur giovane ancora. Abbiamo già nel corso di questi anni pubblicato i primi due volumi degli atti del primo e secondo anno, terzo e quarto anno dell'Università Senza Età che sono disponibili qui presso la nostra parrocchia con tutta la raccolta delle relazioni che si sono tenute nei primi quattro anni. Le elezioni nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e dunque mascherine Green Pass si svolgeranno per questo primo quadrimestre da novembre a gennaio. Da parte nostra noi assicuriamo i servizi di igienizzazione, il controllo del Green Pass, il distanziamento, i locali sono molto ambi e ci sono grandi possibilità di spazio. Mi viene in mente ciò che Papa Francesco più volte ha detto, che la figura dell'anziano è una figura importante per la Chiesa. Non solo numericamente sono i fedeli più presenti nelle nostre parrocchie, ma essi sono risorsa. E allora in un tempo dove siamo molto preoccupati perché la nostra città si svuota di giovani e di giovane famiglie e c'è una presenza quasi totale di anziani, a loro va rivolto il nostro pensiero anche attraverso questo prezioso progetto. Un'occasione dove l'anziano non è solo coinvolto per accompagnare i bambini, i figli, i nipoti, ma un anziano si rende protagonista con la propria mente e col proprio cuore, vivendo un tempo insieme, un tempo di conoscenza, un tempo d'amore.